Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Venti forti da nord-est raffreddano tutta Italia, il tempo sarà buono ma valori termici in crollo. Vediamo il dettaglio di sabato 20 gennaio. Sul Veneto precipitazioni assenti, sarà asciutto e stabile con tanto sole e cielo sereno e limpido. Il vento sarà moderato da nord-est. Come detto, temperature in calo sotto la media stagionale, minime sotto zero ovunque, massime tra 3 e 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato con cielo sgombro da nubi, possibilità di ghiaccio al suolo su tutta l'area montana e sul Carso. Temperature minime tra lo zero e i meno 4 gradi, massime sui 4-6 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Anche in questo caso tempo molto soleggiato, dunque poche novità, con cielo sereno. Temperature minime sotto zero, massime sui 5 gradi. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.